Ciao a tutti e benvenuti nel mio canale. Oggi vi leggo il sedicesimo capitolo del Piccolo Principe. Buon ascolto! Il settimo pianeta fu dunque la Terra. La Terra non è un pianeta qualsiasi. Vi si contano 111 re, non dimenticando naturalmente i re di colore, 7.000 geografi, 900.000 uomini d'affare, 7 milioni e mezzo di ubriaconi, 311 milioni di vanitosi, vale a dire circa 2 miliardi di adulti. Per darvi un'idea delle dimensioni della Terra vi dirò che prima dell'invenzione dell'elettricità bisognava mantenere nell'insieme dei sei continenti un vero esercito di 462.511 lampionai per accendere lampioni. Visto un po' da lontano faceva uno splendido effetto. I movimenti di questo esercito erano regolati come quelli di un balletto dell'opera. Prima era il turno delle lampionai della Nuova Zelanda e dell'Australia. Dopodiché questi, accesi i loro lampioni, se ne andavano a dormire. A loro volta entravano in scena i lampionai della Cina e della Siberia, poi anche loro tornavano dietro le quinte. Allora era il turno dei lampionai della Russia e dell'India, poi di quelli dell'Africa e dell'Europa, poi di quelli dell'America del Sud e infine di quelli dell'America del Nord. E non si sbagliavano mai nell'ordine di entrata in scena, era grandioso. Solo l'addetto all'unico lampione del Polo Nord e il suo collega addetto all'unico lampione del Polo Sud conducevano una vita uzziosa e spensierata. Lavoravano due volte all'anno. Grazie a tutti.